Buongiorno, niente, siccome che ho fatto anche delle storie su Instagram mi sembrava giusto farle anche a voi, meno che ho aggiornato anche a voi e niente, voglio fare un piccolo aggiornamento, 500 iscritti, la sorpresa 500 iscritti allora, in poche parole, io sto vedendo che qui la situazione non migliora con la quarantena io sono del parere che dopo il 14 e dopo il 13 daranno un altro aggiornamento, prima del 13 daranno un altro aggiornamento che si dovrà stare ancora a casa io sono di questa idea, si lo so, è brutta come cosa, io spero che non è così, che mi sbaglio, però come sto andando a danza io penso che sarà così e quindi siccome che io vi avevo promesso i 500 iscritti, vi facevo un pensiero a una o due o tre di voi poi sceglierò, può essere anche di più di tre, quindi poi vedremo, dipende sempre la situazione ragazze come siamo messe perché, boh, non la vedo molto tranquilla la cosa però vabbè, a parte ciò, poi andando su questo vi farò sapere e molto probabilmente farò la spedizione Prime, cioè vedrò su Amazon o qualcosina in modo tale che io avendo Prime vi arriva subito e cercherò qualcosa su Prime e nulla, poi comunque su questo si vedrà e un'altra cosa che vi volevo dire, parecchi di voi mi avete detto io siccome che non sono sempre molto attiva su Instagram o su Youtube se ci contatti puoi aspettare ragazzi, allora io quando vi contatterò aspetterò almeno almeno tre giorni se vedo che non mi rispondete vi assillerò di messaggi in modo tale che vi faccio arrivare 3000 nottiche sul telefono a meno così vi accorgete che vi sto scrivendo perché poi non mi va che succede no, io ti ho letto ancora adesso mi dispiace veramente tanto, poi mi sento in colpa di non avervi aspettato e poi veramente mi sento uno schifo quindi io poi mi sento molto subito e mi sento in colpa anche se poi alla fine non ho fatto niente di male però voglio fare bene questa cosa che poi è mille iscritti scegliere Massimo che cosa fare mille iscritti, dovrò fare una cosa bellissima una cosa grande non lo so, poi vedremo e tu dici già pensi ai mille iscritti ragazzi sì, perché per me voi siete importanti e per me voi veramente mi state regalando tanti messaggi bellissimi in questo momento brutto mi state facendo passare il tempo perché comunque sia registrare un video montare un video non passa tempo e voi mi fate tanta compagnia mi scrivete veramente messaggi stupendi e sono veramente veramente contenta e sono contenta che vi faccio passare pure il tempo con i miei banali video perché alla fine sono molto banali vabbè i mille iscritti vedremo però comunque sia vi volevo avvisare che per il regalo che ho promesso 500 iscritti ci sarà lo stesso quarantena o non quarantena questa quarantena non mi fermerà e quindi vedremo di fare qualcosa ehi vieni qua Shila Shila vedremo di fare qualcosa tramite internet ora vedremo però non voglio spendere chissà quanto perché voglio stare con un budget per tutte quante tutte quante lo stesso budget in modo tale che riesca a fare più di un regalo cioè più un regalo a una di voi cioè non è che a spendere tanto solo per una persona voglio stare su un budget normale per una anzi per una due tre persone non lo so non lo so voi più o meno se dovreste essere scelte che cosa vorreste in particolare meno che così vi iscrivete qua sotto nei commenti e inizia a farmi già un'idea di cosa potrei prendere perché non ho proprio idea però boh comunque sono veramente contenta che siamo arrivati a 440 iscritti ragazzi è una cosa che non mi aspettavo sono contenta no no troppo contenta troppo troppo cioè non so nemmeno se riuscite a capire quello l'emozione che sto provando per voi e vi devo stanno dire grazie perché questo è tutto grazie a voi sono contentissima no 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 comunque vabbè a parte ciò fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa vi piacerebbe avere come regalo e perché potresti essere tu la prescelta o il prescelto perché ci sta anche qualche maschettino che mi segue quindi io vi seguo a tutti quanti so chi siete e so chi non siete perché ragazzi veramente mi dà tantissima gioia e mi ricordo una di voi perché alla fine ecco tipo ora mi ha scritto Paola Desiree ciao tesoro oddio volevo dire Paolo Desiree perché ha lo stesso ragazzo no marito lei è sposata perché anche io e lei messaggiamo tantissimo perché è un amore e c'è il marito che si chiama Paolo come mio quindi si Paola Paolo Desiree volevo dire non so perché dico sempre Paola vabbè ho fatto tuo marito una femmina vabbè fa niente questi sono effetti quarantena 32 giorni ragazzi 32 giorni sto esaurendo no 33 sto esaurendo uscendo fuori di destra basta basta comunque ragazzi scrivetemi più sotto cosa vorreste e un bacione grande 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 ragazzi mi stavo dimenticando una cosa importante cioè allora se volete anche che ne so su H&M oddio non lo so qualcosa tipo di vestiti non lo so volete una maglia una giacca una pelpa non lo so quello che potete volere e anche H&M va bene cioè ditemi voi qualsiasi cosa che volete fatemi sapere qui sotto nei commenti l'importante è che è qualcosa che si può pendere su internet perché purtroppo ripeto non posso fare altro purtroppo sono bloccata qui in casa quindi ora vi risaluto perché mentre montavo il video mi sono accorta che non avevo tutto questo petto quindi ho detto fammelo aggiungere quindi un altro bacione